Ben trovati a filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Il Consiglio, presieduto da Gennaro Olivero, ha approvato il documento di economia e finanza della Regione Campania 2022-2024. Il documento di economia e finanza è stato presentato all'esame del Consiglio regionale dal Presidente della Commissione regionale bilancio, Francesco Picarone, ed è stato approvato a maggioranza con il voto contrario delle opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Tra i principali obiettivi dell'azione di governo per questa legislatura il potenziamento e la semplificazione della pubblica amministrazione regionale, l'incremento dell'offerta delle prestazioni sanitarie, il risanamento ambientale, la chiusura del ciclo dei rifiuti, il potenziamento dell'offerta dell'energia alternativa, le azioni a sostegno della natalità e della famiglia, la riforma del sistema urbanistico. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Sciarambino, ha sottolineato la inadeguatezza del documento di economia e finanza, particolarmente nei settori della sanità e dell'ambiente, ed ha espresso apprezzamento per il ricepimento delle proprie proposte nell'ambito della risoluzione di maggioranza. Il capo dell'opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, ha evidenziato il fallimento dell'azione di governo in tutti i settori ed ha proposto l'istituzione di un tavolo istituzionale di confronto per la spesa di fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Consiglio ha inoltre approvato alcune modifiche legislative, quella che riguarda la legge istitutiva dell'ergistro regionale dei prodotti a denominazione comunale per adeguarla alle normative europee ed ha inoltre approvato all'unanimità il regolamento per l'attuazione dei punti nascita per le bambine e i bambini fin dalla nascita ai sei anni di età e per i loro genitori. Il Consiglio ha inoltre approvato ad unanimità numerose mozioni, tra di esse quella sugli ospedali di comunità proposta dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Sciarambino, quella sul ripristino del Tribunale di Sala Consilina ad iniziativa del capogruppo d'Italia Viva, Tommaso Pellegrino, ed anche quella del capogruppo del PD, Mario Casillo, come modificata dalla proposta del Consigliere di Fratelli d'Italia Marco Nonno per la nuova disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infine il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno all'unanimità per i lavoratori di Whirlpool e per la positiva conclusione della vertenza occupazionale. Ed è tutto per filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.